Buonasera sono Mimmo Gozzolino e sono un dirigente sindacale dell'ANIF stasera vi voglio parlare della ricostruzione di carriera che cos'è a chi è rivolta la ricostruzione di carriera è un'istanza presentata dal personale scolastico che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi pre ruolo quelli validi chiaramente che sia però se siano prestati stati prestati a tempo determinato o in un altro ruolo è importante che questo venga fatto perché esso determinerà la nostra fascia stipendiale di appartenenza cioè il gradone dentro il quale saremmo pagati a chi è rivolto è rivolta al personale confermato il ruolo a seguito del superamento dell'anno di prova ricordo dell'anno di prova consiste in 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente due mesi per il personale a da appartenente all'area a e quattro mesi per i restanti profili la modalità di invio di questa domanda è tutto telematica mediante il portale messa a disposizione del miur istanze online si esegue il login e si entra nella prima pagina in questa prima pagina troveremo la prima voce che ci interessa prima precedente alla ricostruzione di carla domanda di ricostruzione e la dichiarazione dei servizi se non l'abbiamo controllata se non l'abbiamo integrata se non l'abbiamo aggiornata cominciamo a fare questo lavoro e con un semplice invio finale questa dichiarazione dei servizi sarà inviata automaticamente alla scuola quindi andiamo a fare la compilazione dell'istanza ricostruzione di carriera e poi mettiamo il nostro codice personale e sarà inviata direttamente alla scuola nella ricostruzione di carriera i primi quattro anni saranno valutati completamente successivamente ogni anno sarà valutati per i due terzi quindi ogni anno ne perdiamo un terzo cioè noi ogni tre anni rischiamo di perderne uno ricordiamocela quali sono gli anni che vengono valutati per il servizio per ruolo per i docenti questi anni devono essere compiuti di 170 giorni anche se non continuativi quindi ogni anno deve avere i suoi 180 giorni o un servizio ininterrotto dal primo febbraio a fine delle lezioni a fine anno scolastico invece pagliate a questo problema non c'è perché non c'è un tempo minimo all'interno dell'anno quindi tutti i giorni di tutti gli anni concorrono a fare la ricostruzione di carriera in questo video vogliamo darvi alcune dritte per far valere ancora di più i vostri diritti riguardanti la ricostruzione di carriera la prima dritta è la più semplice e a volte la più sconosciuta si chiama il realinamento il realinamento serve a recuperare integralmente quello terzo che noi abbiamo perso quindi non solo recupereremo posizione nella nostra nei nostri gradoni ma anche sarà utile tutto questo ai fini del trattamento di quescenza e di tfr per poter effettuare il realinamento bisogna avere determinati anni di servizio e vediamo quali ad esempio 16 anni di servizio per quanto riguarda i laureati che lavorano nella scuola super secondaria superiore 18 anni di servizio per il dsga personale dell'infanzia primaria personale educativa e diplomati nella scuola secondaria di secondo grado 20 anni per il personale ausilare collaboratore e 24 anni per i docenti dei conservatori e delle accademie che cosa dovrebbe fare il personale interessante nulla perché l'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'amministrazione infatti se non lo facciamo rischiamo che l'amministrazione come quasi sempre succede si dimentica di questo nostro diritto quindi conviene fare una diffida semplicissima una domandina da presentare in segreteria e lo manderà al ministero in cui si chiede questo riallineamento le altre dritte sono associate ai ricorsi che l'anief sta portando avanti con molte soddisfazioni ed ecco i nostri ricorsi che sono il riallineamento della carriera il recupero del gradone stipendiale la ricostruzione di carriera con sentenze e scatti la ricostruzione di carriera per docenti ata di ruolo bene spero ancora una volta di essere stato chiaro e vi aspettiamo nelle nostre sedi per poter parlare di queste problematiche e all'occorrenza aiutarvi a risolvere arrivederci